A Danua, di lei la passò a sua risaposta, un lindo fittizio, il mio provvisore a fare per il romantente, e i suoi sudditi la adoravano. Sul codo ciò era una grande fronte, e attraversò gli stessi bandissimi. Nella vera capitale, Emily la Giusta, Emily l'intelligente, governò per decenni sul prospero vero con Corvo Atano al suo fianco. Ai suoi tempi, Anton Sokolov aveva fondato l'industria, tra l'Italia, però, in era sofisticata. Aveva frequentato nobili, artisti belli e grandi inventori, con un buccio che all'ina pianofile. Quando Megan Foster svanì da noto, dalla sua vita è un seguito look, che partiva a cercare la propria identità. E qualcuno che fosse per lei una famiglia.